ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mito e mistero scp oggi parliamo della scp 3455 chiamato anche 411 giorni all'anno classe l'oggetto archon questa prima volta essendo dire l'oggetto archon c'è anche specificato andiamo a leggere un attimo le anomalie di classe archon sono anomalie che non dovrebbero essere contenute a casa dal danno che sarebbe portato da ciò ok ma questo è curioso non l'ho mai visto ma anche una serie di danno vgf foto di una celebrazione di scp 3455 si tiene che la sostanza colorata sia un allucinogeno anomalo ma veramente questo sembra un color party un partiflu una cosa del genere un color party veramente non dico niente poi c'è due speciali di contenimento le due standard devono essere mantenute rigorosamente durante scp 3455 il personale che agire in maniera contraria agli obiettivi della fondazione durante scp 3455 saranno puniti severamente dopo la sua conclusione prima della conclusione di scp 3455 tutti i dati critici devono essere archiviati in un luogo temporaneamente isolato sono in costo ricerca sulla casa di scp 3455 sebbene si debba notare che se la causa venisse scoperta essenziale che i suoi effetti siano preservati la mancata dell'impostazione corretta di scp 3455 al tema di un'interazione causerebbe un danno inerreparabile la normalità descrizione scp 3455 è un'anomalia temporale che sovverte il flusso lineare del tempo che si verifica ogni anno alle 00 del 17 marzo all'inizio di qualsiasi interazione di scp 3455 tutti gli umani affetti recupereranno immediatamente tutti i ricordi che avevano durante la precedente interazione che di solito include la conoscenza di scp 3455 e della sua natura scp 3455 dura esattamente 47 giorni concludendosi alle 23 59 del giorno 3 maggio alla sua conclusione il tempo ritorna al punto di partenza eventuali modifiche apportate durante scp 3455 vengono rimosse dalla casualità e tutte le conoscenze acquisite vengono perse il tempo procede quindi normalmente fino all'inizio della successiva iterazione la condotta umana cambia destricamente durante scp 3455 si ritiene che ciò non sia correlato all'anomalia stessa ma piuttosto una conseguenza della conoscenza recuperata dalle precedenti interazioni e della percezione culturale generale del tempo compresa da scp 3455 come prima priva di conseguenze notevole aumenti delle manifestazioni di hedonismo si verificano a livello globale insieme ad un aumento generale delle cadenze nichiliste e una riduzione delle ambizioni personali anche le azioni che di norma sarebbero definite superfue sono eventi comuni scp 3455 ampiamente disegnato come un mese aggiuntivo del calendario chiamato liberario della popolazione civile i tassi di incidenze di attività anomale aumentano ben oltre l'usuale durante scp 3455 il contenimento di nuova anomalie durante questo periodo è complicato dalla consapevolezza pubblica dell'attività normale è della stessa fondazione nonostante ciò tutti i dipendenti della fondazione sono tenuti a mantenere un regime standard di operatività durante scp 3455 si ritiene che il primo avendo scp 3455 si sia verificato nel 1976 sebbene la fondazione non ne fosse a conoscenza fino a 1987 quando fu sviluppata la tecnologia per isolare previsivamente i dati dal flusso temporale e questa è la storia scp 3455 se il video vi è piaciuto come sempre vi lascia un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima